Si naviga lungo il Po anche il 9 e 10 maggio alla scoperta di libri e autori piemontesi. Prosegue, su iniziativa della Biblioteca della Regione, il Battello dei Libri, con la presentazione di alcuni volumi di editori locali. L'appuntamento per entrambi i giorni è alle 15.30 al Monumento a Garibaldi di Corso Cairoli. Durante la navigazione, a ingresso gratuito fino a esaurimento posti, saranno presenti l'autore e attori che leggeranno alcuni brani tratti dai libri.